ma salve ragazzi e bentornati subito su server trash con la telecamera in basso a destra potrei aver scuffiato scusatemi ho un problema con il microfono e certe volte non mi registra quindi spero che non sia una di queste andiamo sul poligono di tiro dov'è che ho messo salsa al cazzo eeeh dov'è il poligono vabbè andiamo verso tutta quella roba bella lì e sto andando alla torre fracking che è abbastanza lontano spero se volevo andare sul poligono vediamo un attimino eeeh questa è la prima partita che faccio con la con il gioco vero e proprio ho messo la maglia di call of duty per essere proprio a livello ne farò un po' di partita fammi vedere qui la situazione com'è potrei anche appoggiarmi da questa parte che cazzo è sta roba qua oh oh merda troppa gente ah stavano gli zombie dentro in quella situazione oh 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 nooo ma ha cambiato tutti i tasti ragazzi devo prendere un fucile e mi devo nascondere buono ok devo nascondermi devo nascondermi un attimo scusate faccio subitissimo mi ha cambiato tutti i tasti vi vedrete esattamente che tasti metterò equipaggiamento no metto la F mi spiega 20 raggisci la E assolutamente salto con questo e spazio C control sdraia di passione singola Z no ho sbagliato porca trovi come si toglie vaffanculo porco satana allora sparo dove vai lo sparo arma seguente ricarica R vita spazio dove cazzo è fuoco ecco ok ok ah devo mettere il corpo a corpo che è questo e la sezione delle armi ilisir dove stanno le granate beh per adesso non le mettiamo ok più o meno ho impostato tutto questa che arma eh mi piacerebbe provarla c'è un sacco di gente ma loro saranno messi dieci volte meglio di me devo stare molto attento i perk li sto prendendo ma fra un po' dovrò mollarli quasi sicuramente perché non avrò troppo spazio una pistola torna sempre utile anche se non la volevo cambiare ok dove siamo siamo giusto all'interno del cerchio oh un buono non so quanto fosse ma oh bella questa arma mamma mia ok non l'ho mai usata probabilmente una di quelle armi top di Call of Duty ma oh oh questa mitraglietta è fantastica però devo fare un po' di test oh aspetta lancio di rifornimenti in arrivo ok bella questa la tengo mi sembra davvero molto più questa è molto più da distanza ok mi dispiace che non possiate leggere l'arma oh zaino ottimo dicevo mi dispiace che non possiate leggere che arma sto utilizzando perché c'è la mia faccia del cavolo ne farò un po' di gameplay con la mia faccia poi comincerò a togliere quindi nel caso dicevo nel caso scrivetemi e fatemi sapere se la cosa vi aggrada oppure no attualmente ne siamo 37 questo che cazzo di livello eh a livello 2 ho sentito dei passi il nostro bolviscolo che cazzo sento delle cose ma vaffanculo è la la bandiera vediamo un attimino siamo abbastanza zaino già ce l'ho non cambia granché oh livello 1 livello 1 livello 1 livello 1 devo diventare più veloce nella selezione degli oggetti eh siamo a 29 onna ste bandiere del cazzo intanto fatemi guardare un attimo equipaggiamento 240 240 secondi non sarebbe male più lungo ok uso pure questa un attimo attenzione previsto ulteriore collasso trasferitevi nella zona sicura cazzo it's parkour time che su eh sono salito sul tetto grandioso ho scoperto un bug allora come cazzo ho fatto a salire là sopra così no allarme lancio di rifornimenti in avvicinamento ok siamo dentro la zona sicura ma io vorrei avvicinarmi eh dobbiamo andare di là ci arrivo a piedi nuotando mi piace un sacco la motilità uh no ok sto pieno andiamo sott'acqua alla fine c'ho quell'avviso sonoro che per quanto mi riguarda adesso è tanta roba il rampart no voglio un fucile da cecchino per lo 1 purtroppo devo ancora conoscere bene le armi del cerchio imminente portarsi al sicuro oh oh irch ah già siamo altrove praticamente oh fio spinato mozzo non so che cosa sia recupero munizione eh granata perché non posso prendere la granata vediamo un attimino una queste una queste no tutte e dieci no magari no eh ok e la granata la prendiamo e la equipaggiamo al posto di questo con F si tirano le granate ma come cazzo è che si tirano con F le granate aspetta aspetta niente siamo all'interno del cerchio si poi siamo 16 bravo Nicola non ti far sentire da tutti quanti adesso non ho capito perché le granate le devo mettere con F questo mezzo lo sa no merda ok 15 insomma si stanno scartavetrando questi ok da qua devono arrivare delle persone mazza mi piace un sacco il colpo solo che adesso mi sono fatto sentire da qualcuno giusto previsto ulteriore collasso raggiungere le zone sicure indicate porca tra stiamo lontanissimo ho visto una macchina qui ho un code io con il code mi sembro sempre un po' più sicuro all right ok poi sul code hai una visuale veramente a 360 gradi quello che succede quindi si può oh c'è uno degli zombie qui allora vediamo di prendere un posto qui sopra elevato no bene nicola vai attenzione torna a combattere perché devo tornare a combattere ah ho finito collasso del cerchio imminente portarsi al sicuro allora ok è questo wow titan operativo ok oh ma perché si è tolto il mirino bug di merda non vedo il mirino dai ma vaffanculo call of duty vaffanculo ma che cazzo è ma dai mi si è tolto il mirino ma come cazzo ma vaffanculo ma che palle scusate ragazzi ma vaffanculo ma visuale morto è sto cazzo dove stava il mirino mannaggia Eva mannaggia ma figlio di puttana va ma come facevo a spararti ah ma vaffan in culo vai boh ragazzi ci vediamo al prossimo gameplay ma 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 vaffanculo va a